La Basilicata è uno scrigno segreto, un luogo dai contenuti inattesi che possono diventare arte e racconto, tanto da avere un suo alter ego nel mondo del fumetto. La mostra racconta questo ed è un invito alla scoperta, dall'immaginario al reale, di una terra straordinaria. Sono le parole di Antonio Nicoletti, direttore di APT Basilicata, in occasione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che dal 10 giugno al 6 settembre ospita la mostra inedita organizzata da APT e intitolata Basilicata, una terra tra le nuvole, viaggio tra i fumetti di ambientazione lucana, a cura di Giuseppe Palumbo e Andrea Plazzi. Da editori e riviste nei primi anni 90 con Sergio Bodelli editore, fino alla recente ribalta di Topolino, i fumetti lucani hanno contribuito a generare l'idea di una regione ricca di storie, di personaggi e di atmosfere interessanti e inedite. Saluto con gioia il ritorno della Basilicata nella Milanesiana. La abbiamo raccontata attraverso mostre e incontri negli anni passati. Ora la raccontiamo come terra del fumetto. Continuiamo a scoprire questa regione, terra piena di presente e futuro, commenta Elisabetta Sgarbi. Nel pomeriggio, sempre organizzato da APT Basilicata nell'ambito della milanesiana, si è tenuto un incontro dal titolo I tesori dei borghi nascosti, dalla Basilicata a Milano. Nella circostanza è stato presentato il volume di Gabriele Scarcia, prodotto da APT, curiosità d'arte attraverso i borghi lucani a cura di Gabriele Scarcia.